Siamo lungo la rosta adiecente a Via delle Statue a Mussolente dove una nostra telespettatrice ci segnala la presenza di rifiuti abbandonati e di un complessivo stato di degrado dell'area. Il video è accompagnato da un messaggio in cui la nostra telespettatrice appunto, residente del posto, ricorda a tutti che anche il piccolo inquina e sottolinea come una situazione del genere non sia accettabile per chi ama la natura o semplicemente per chi ha senso civico ed educazione.